Noi andiamo, dopo poco ci arriva incontro una patuglia, cioè un gruppo di partigiani del distaccamento Rosselli, lui era già uno dei partigiani lì della zona, sono venuti incontro e arrivo in distaccamento. Come arriva in distaccamento? Il comandante parla con noi, vuole sapere perché siamo andati su, gli spieghiamo quello che è successo e anche lì un capovolgimento della situazione, una realtà completamente diversa che non è solo che devi imparare a combattere, ma il comandante partigiano dice guardate, in questo momento voi non siete più né uomini né donne, siete dei partigiani, fate ciò che fanno gli altri, dividete con noi e dormite nelle stanze con noi, dividete con noi il pasto, dividete con noi quello che c'è da fare, cioè pattuglici. Inizialmente imparerete pian piano, intanto imparate ad operare le armi, a conoscere le armi, come accudirle, come conservarle, come caricarle e come utilizzarle. Poi dice vi faremo fare guardia, pattuglia e pian piano imparerete a diventare delle combattenti. Però qui avete i medesimi diritti e i medesimi doveri delle donne, dei partigiani. Qui nessuno vi deve mettere in difficoltà e voi dovete comportarvi da non mettere nessuno in difficoltà. Infatti la sera andiamo a dormire, figurati prima ci avevamo messo a dormire in una stanza, ma era pieno di cimici, si abbiamo dovuto scappare, perché non si riusciva a dormire per i pizzicotti che prendevi. E siamo andate a dormire. La prima sera che ho dormito con loro, io ero fra De Pietri, che era un partigiano di Reggio, un'unica persona che sono sempre stata amica anche dopo, e un carabiniere, un giovane carabiniere sardo, che non aveva accettato l'ordine dei tedeschi ed era scappato con i partigiani. Abbiamo chiacchierato tutta notte, loro mi domandavano informazioni della città, io domandavo informazioni a loro, insomma, come ci dovevamo comportare, eccetera. E mi sono resa conto veramente della differenza. A casa, dormire vicino a un uomo, c'è stata più fresca, ma la donna era importantissima per i partigiani, perché la donna andava dove loro non potevano andare. Loro erano remitenti alla leva, loro erano uomini e ovunque dove andavano, anche giovani, venivano presi, perquisiti e mandati in campo di concentramento come minimo. Mentre invece noi donne, non essendo remitenti alla leva, non avendo l'obbligatorietà di essere nell'esercito, o comunque fra i fascisti, questo ci permetteva degli spostamenti che a loro non permettevano, per cui vedi stampa, propaganda, armi, tutto, ad esempio, quando una formazione, ad esempio, di Gappo di Sap, che operava in pianura, si muoveva, davanti c'era la donna. Anche la formazione della montagna, il distaccamento a Rosselli, era lì a Canossa, a Cavandola, vicino a Canossa, se veniva a Quattrocastella, oppure faceva un'azione sulla Via Emilia, era una partigiana che faceva da battistrada, capisci, ecco, che venivano chiamate staffette, ma eravamo in battistrada, in quanto andavi avanti, a vedere quello che c'era, e tornavi indietro dicendo la strada è libera, era estremamente importante questo, ecco, oppure il trasporto d'armi, eccetera.